Ecco dal teschio, mentre questo gira da solo, la visuale Iscrivetevi al mio canale E poi dovete vedere come cazzo dobbiamo fare questo joystick pad, tale comando Come cazzo si chiama Bisogna comprare il nuovo, guarda questo, mi dà la presenta Pezza di merda Chi è qua? Aspettiamo che chiama La donna della mancia Ok, a quanto pare abbiamo trovato l'ultimo sbirro onesto della città Si chiama Anna Emel E non so su cosa stia indagando, ma si è fatta un sacco di nemici Farebbe meglio ammollare l'osso, non so se mi spiego Ok, senti, so che sembra brutto, ma qualcun altro avrebbe accettato questo lavoro se non l'avessi fatto io, no? Non so, forse possiamo ancora giocarcela bene In ogni caso, alleggo le informazioni Vabbè, possiamo farlo che l'ammazziamo, ma non credo Oppure lo facciamo normale Questi non ci dovrebbero vedere, però Noi per sicurezza togliamo le telecamere Dobbiamo chiedere a qualcuno Cosa sono questi gamberetti schifosi? Ti aspettavi? Siamo a Kabuki, non a North Oak Che ne sai tu di Kabuki, sporco nomade? Eh dai, non ce n'è bisogno Mettici una compressa profumata per coprire l'odore 15% in meno o non compro nulla? E poi dicono che i nomadi sono ladri D'accordo? D'accordo, affare fatto Sono freschi quei gamberetti? Sono appena arrivati Direttamente dalla migliore acqua farm di Night City Acqua farm? Da dove credevi? Da Pacifica? Quello schifo che viene dal mare immangiabile Ti fa ammalare Va bene, già faceva schifo quindi Tieni la roba Trasportare merci attraverso tutta Night City Non è un lavoro molto sicuro Hai mai avuto problemi? Se stai cercando di vendermi protezione Puoi pure levarti dalle palle Ho già quella di Takeshi Il bazar è su Scusa se sono curiosa Sì, certo Quegli abiti sono tuoi o li hai presi in prestito? Chi vuole saperlo? Sono una bacca Bene, bene Due nomadi che si incontrano a Night City Come posso aiutarti? Che cosa ti porta a Night City? Quello che porta a chiunque Eddie Avventure Vivere il sogno americano Come vedi Fai meglio a dirmi cosa posso fare per te Sto cercando questa donna La conosci? Lo sbirro? Certo Ha una stanza in questo motel Proprio qui Perfetto Grazie Figurati Vediamo se possiamo entrare senza fare scassi Signore, cosa fa qui? E non riesco a dare il resto Non voglio comprare niente Quella fuma Qua deve stare Non mi ricordavo che c'era una Che è? Che è successo? Non è già qua Posso accherarlo? Perché devo pagare? Non so se ho pagato però Dobbiamo salire sopra Ah, l'ho pagata la stanza C'è, dai La stanza è numero 203 Poi andiamo a vedere Ci piamo qualcosa Ehi Leggiamo i messaggi 13 Luglio Mercoledì 2023 23 Io non voglio le telecamere Lo disattivate però Vabbò Vai Io dovevo prendere dei Eh, lo sapevo che stava qui Vabbò, non va Vediamo un po' Un Qua Facciamo da questo Perché se io faccio qua Posso fare subito Però Non posso fare manco uno Perché Dopo non c'è il BD L9 stava qui Però Facciamo questo Che mi da Eh, mannaggia Poi parte subito Col BD Vabbè, non fa niente Va schiacciato uno Maurizio Non ti sto registrando Allora Allora Stai inviando immagini Di GTA Allora, va bene Questa sta spendendo soldi A giocare Ma noi andiamo sopra Dunque non so se si vede Una registrazione C'è Chi mi C'è Chi manda immagini Da me Era questa La 203 Ma poi Che ci fanno Due cazzi pelosi Questa è la mia stanza Con la foto Dei cazzi Proprio Vabbè Voi Potete salire Dove volete Dentro Fuori Cioè Ho pagato Possiamo salire Pure da qui Quando non Possiamo salire Pure da qui Però qui sopra Prendiamo la corrente E non saliamo Nella strada normale Cioè Questa è la mia stanza Però non posso usarla Che giornalino c'è Qua che gioco E andiamo su C'è Si vede Delle politiche Salve Ci conosciamo No Però qua C'è C'è Cirogeni Qua Quella che sta sopra Non dobbiamo Scegliere l'approccio Cioè Parlargli Bene Se no Inizia a sparare Ecco qua Lo sapevo Qua ci vuole Dovevamo salire lì Però È meglio che voleva Non mi ricordo Tecnica Ok Ce l'abbiamo Sì ce l'abbiamo Dai Vai Fermiamoci qua Signora Alt Non muovere un cazzo di muscolo Chi ti ha ingazzato Voglio un nome Anna Lascia perdere l'indagine È nel tuo interesse È una minaccia Ti ricordo che sei tu A essere sotto il mio fottuto tiro Ehi Calma Voglio solo aiutarti Aiutarmi Il mio impianto audio Deve essere andato Credo intendessi intimidire Interrompi la tua indagine Hai fatto incazzare La gente sbagliata Quale gente? Dimmi quale cazzo di gente? I tuoi amici Dell'NCPD Ti hanno tradita Maledetti Lo sapevo Cazzo Robert Kowalski E Bill Adams Figli di puttana Lascia perdere Non ne vale la pena Già Sai che ti dico Non mi farò Ammazzare Per quegli stronzi Fanculo a loro A questo lavoro E a questa città Grazie Tutto è bene Quel che finisce bene Lasciami stare Non fingere Di essere diversa Dagli stronzi Che ti hanno mandata qui Hai avuto Quello che volevi Ora levati dalle palle La donna della mancia Ma se ti ho salvato Quello Se ti ho coletto qua Coletto qua Credo che ci siamo Già detti tutto Ho pagato la stanza Scusi Leggiamo A posti Non leggo Però Potremmo salire Da qui Lì c'è pure Quello là Però Lì prendiamo La corrente Andiamo Ce ne va Insieme a finire Perché non è scivolato Ah perché qua Devo premere il cerchio Per scivolare Vabbè Oh e quello L'ho lasciato prima E questo non l'ho visto Eh Che fai C'è qualcosa qua E qui Qua sono uscito Dall'altra parte Cazzo Sapevo Entravo qua Senza pagare Porca miseria Da dove sei uscito qua Qua pure si apre Ah è questo portale Tra l'altro palazzo Ok Eh Dobbiamo di uscire Da questa parte Ci sai fare con le parole Eh V Felice che sia andata Nei migliori dei modi Contratto chiuso Eh va bene Il teschio vi saluta Intanto vendo qualcosa A questo qua Per fare un po' di soldi Ah pure qua E' tutto qua Va bene Ciao ciao E io vado A caricare questo video Ciao ciao Iscrivetevi al canale A presto Il teschio vi è un po' di soldi A presto A presto A presto A presto Grazie.